Grazie Presidente. Io credo che siamo non per la prima volta durante questa consigliatura innanzi a un evento che riguarda i mutui estremamente positivo perché già nei mesi passati, lo scorso anno, sono stati estinti, se non ricordo male, circa 100 milioni o giù di lì di mutui. Estinguere un mutuo per un'amministrazione vuol dire, soprattutto per i cittadini che la finanziano con le loro tasse, non pagare interessi e poter indirizzare quelle risorse ad altre iniziative. In questo caso addirittura un'iniziativa nobile che è quella del trasporto di persone diversamente abili, quindi sicuramente un fatto positivo. Sul discorso che il Ministero abbia preso questa decisione di supportare gli enti locali per ciò che riguarda il finanziamento delle parti relative alle penali, è indubbiamente un fatto positivo, ma vorrei pure ricordare nel tempo le penalizzazioni che il Governo centrale ha fatto nei confronti degli enti locali a partire dal patto di stabilità che ha penalizzato anche gli enti virtuosi che non hanno potuto effettuare spese perché soffocati dai parametri che sono stati imposti dal Governo, oppure tutti i trasferimenti che sono venuti a mancare con la soppressione della tassa sulla prima casa, è indubbiamente un fatto positivo e condivisibile, ma che poi non hanno trovato reale riscontro nella restituzione degli importi, o almeno nel pieno della loro sostanza. Quindi direi che il Governo con questo rimedia parzialmente a un atteggiamento nei confronti degli enti locali non proprio brillante. e vorrei aggiungere in particolare su Roma che Roma è una delle poche capitali mondiali che non usufruisce di un finanziamento da parte dello Stato centrale degno di questo nome e questo ovviamente penalizza l'amministrazione di una città che vede concentrati sul proprio territorio tutta una serie di iniziative a partire anche dalle legittime proteste di chi viene a rivendicare qui in questa città le decisioni del Governo centrale e che ovviamente provocano in termini di impatto sul territorio, sui trasporti, sulla sicurezza, una serie di difficoltà che non vengono poi riconosciute a livello di Governo centrale. Per cui ritengo che tutte le volte che il Governo centrale, il Governo dello Stato, possa collaborare con un'amministrazione difficile e complessa come quella di questa città sia un fatto positivo. Ribadisco il fatto che da quando si è insediata questa amministrazione l'indebitamento complessivamente va scendendo e questo anche per tranquillizzare magari altri enti a livello internazionale che vedono nel prossimo Governo un pericolo. Dove c'è il Movimento 5 Stelle normalmente i debiti vengono meno, non aumentano. Quindi colgo l'occasione per fare un in bocca al lupo al prossimo Presidente del Consiglio. Grazie.